Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fipili per lavori sul viadotto del Turbone al momento ci sono un chilometro di coda tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo-Fiorentino verso Livorno e un altro chilometro di coda tra Empoli-Est e Ginestra in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra Santa Croce-Sullarno e San Mignato verso Firenze. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Pistoia per lavori di rifristino strutturale al viadotto sul torrente Ombrone in località Capostrada ha chiusa la bretella di collegamento tra la strada regionale 66 Pistoiese e la statale 716 Raccordo di Pistoia, riapertura prevista il 3 giugno. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!